Salvatore Belfiore, facilitatore. Cosa vuol dire? Essere un facilitatore di Soul Voice. La comprensione di come intonare ed utilizzare la nostra vera voce è una chiave per trasformare le nostre emozioni represse, il nostro dolore dimenticato. Trasformare noi stessi nel corpo, nello spirito, riscoprendo quanto sia bello ridere, ma ridere davvero. E poi andare a ripulire, ma pulire davvero i nostri canali interni con frequenze sane, con metodi sani, consapevoli, equilibrate e vere, sono le modalità naturali sane che ci può dare e ci regala nel sostegno, ad una nostra cura, il facilitatore. Che in questo caso è un facilitatore del Soul Voice, Salvatore Belfiore. Il Soul Voice è un potente metodo di autoguarigione che ci farà cantare, suonare, urlare, gridare. Ci farà urlare la nostra voce, ci farà usare in confidenza la nostra voce. Cosa vuol dire? La confidenza è molto bello quello che tu dici, perché la confidenza vuol dire che io mi ascolto, che io ho preso confidenza ad un che conosco, e soprattutto che io mi accetto, la parola chiave di tutto questo discorso. Però, scusa, prima di accettare e di amare deve passare il concetto di conoscenza. Di entrare dentro, di entrare dentro, di autoascolto. E in questo come aiuta il Soul Voice? Il Soul Voice aiuta proprio per questo motivo, perché non essendo un giudizio alla base del processo, il processo non è giudicante o logico-razionale, anzi rifugge, diciamo, da tutto quello che viene ascritto in un discorso logico-razionale. Hai presente quando da bambini giocavamo al se io ero questo allora tu eri quello? Hai presente? Esattamente. C'è una riproposizione di dinamiche anche, diciamo, energetiche molto molto primitive, se vogliamo. C'entra qualcosa anche un'interazione con i neuroni specchio nella nostra risonanza? Quello c'è sempre comunque, perché comunque i neuroni specchio e tutto quello che ha a che fare con la memoria dell'acqua, sai benissimo che sono assolutamente connaturati. Noi se solo ci rendessimo conto di che cosa siamo in grado di trasportare a livello di memoria cellulare, ma soprattutto a livello di memoria dell'acqua, forse avremmo anche un approccio molto più rispettoso nei confronti di quelle che sono le nostre emozioni. Perché tutto quello che noi sentiamo, tutto quello che noi abbiamo sentito da bambini, tutto quello che la nostra madre ci ha comunicato... Il printing nella vostra memoria. Tutto quello che la nostra madre ci ha comunicato durante il periodo della gravidanza, rimane indelebilmente registrato nelle nostre memorie cellulari. Quindi voi pensate, pensiamo, noi tutti, perché comunque è una consapevolezza che non finisce mai, pensiamo quanto materiale noi abbiamo che condiziona le nostre vite, che condiziona le nostre azioni, che condiziona i nostri modelli di comportamento. Molto spesso però questi modelli di comportamento non sono sani, non sono anche, diciamo, espressioni di un benessere. E' molto più facile per noi lasciarci risucchiare in modelli di comportamento negativi o ripeterci delle cose autolimitanti, autorestrittive, anche violente molto spesso. Noi dobbiamo semplicemente decidere, arrivato a un certo punto, fino a dove vogliamo che questa macchina venga spinta. Se noi invece prendiamo coscienza, come abbiamo detto prima, fermiamo questa macchina e ci rendiamo conto innanzitutto che non è una macchina, come ci hanno sempre detto, ma che siamo esseri umani, quindi siamo persone che vibrano, persone che respirano, persone che sono connesse con la terra e riconosciamo che effettivamente la nostra madre reale è autentica e la terra. Impariamo anche a scaricare a terra tutta una serie di cose. Ecco perché oggi è anche un esempio concreto, esempio concreto, concretenza, connessione. Noi siamo un canale, dobbiamo restituire il bene che ci ha dato madre terra e in essa scaricare. A me hanno anche insegnato che quello che noi consideriamo essere dei rifiuti, tipo la mia paura, le mie turbe mentali, la mia negatività, qualche emozione bloccata in negativo, se io non le rilascio non potrò mai concimare la terra. La terra, quello che noi consideriamo essere dei rifiuti, per la terra sono dei concime. Una risorsa, la nostra madre terra, in casella risorsa, la nostra paura. Anche, ma anche la nostra rabbia, anche il nostro rancore. Quando noi entriamo in contatto con le altre persone, molto spesso più geliamo quelle che sono le nostre emozioni e più genereremo ancora di più altri problemi, altri casi. Faccio ridere, voglio volutamente spezzare. Ci incappottiamo. Esatto. E più cappotti metti, più strati metti al cervello e al fisico che da lì si passa, o viceversa, più ti rigidisci, più si vede comunque nei lati esteriori, più tempo impiegherai per tornare a una connessione naturale con chi ci ha generato e chi ci fa star bene. Maria Teresa, una domanda. Ma quando uno dice incappottare, vuol dire mettere cappotti, giusto? Sì, ma si usa anche nei gerghi tecnici di coloro che costruiscono case, sai? Però è buffa questa cosa, no? Però mi è venuto proprio perché il cappotto dà un'idea più o meno, insieme all'impermeabile, proprio di una chiusura, di una protezione. No, ma sai perché te lo chiedo? Te lo metti per proteggerti dal freddo o dall'acqua. Perché la cosa potente del soul voice che io ho visto essere valida per me, ma anche per tante altre persone, è l'importanza della voce, forse è proprio questa, che per quanto noi possiamo coprirci con delle strutture mentali, con tanti cappotti, con tante sovrastrutture, con tante anche protezioni, l'unica cosa che trapassa ogni sorta di sovrastrutture, ogni sorta di cappotto e che è udibile sempre e comunque a un livello fisico, ma anche a un livello più sottile, è proprio la voce. Stavi dicendo scusata, al proposito, non perdere il filo con quello che è il discorso che volevi continuare, ma altrimenti io dimentico il tuo gancio precedente. E i vicini di casa, in effetti, che tonalità, che cosa, a loro cosa risulta, quello che sentono... Quello che loro mi dicono, ma anche delle persone che poi hanno iniziato a seguire questo percorso, paradossalmente, si avvicinavano e dicevano, ma cosa state facendo? Perché non hanno chiamato la polizia per dire, oddio, che suoni sono questi? Dico che i vicini di casa hanno sentito quello che abbiamo percepito, molto di meno, perché adesso si inizia a lavorare uno ad uno, posso dirlo? No, no, sono sessioni individuali, certo, è molto importante sapere questo, che sono sessioni individuali, che sono private, ovviamente, che sono anche confidenziali e che sono protette perché appunto si fanno in un ambiente protetto, non si fanno per strada, mi spiego. Però molto spesso la gente che ascolta questo tipo di suoni e che sente, forse, per risonanza vibratoria, un certo tipo di... Si chiede. Si chiede come mai non ci si vergogna di fare questi suoni, come mai non ci si vergogna più di piangere, come mai non ci si vergogna più di urlare. E poi da lì è molto interessante perché si inizia a parlare e... Il suo voice, Salvatore Belfiore, far comprendere alle persone di esprimere le proprie emozioni e il togliersi questi schemi, questi grandi limiti che fanno soffrire. Per me è la cosa che io... Il primo problema, la prima difficoltà che si trova quando una persona viene da te, quella che identifichi. E l'incredulità molto spesso che attraverso il proprio fiato basta quello e attraverso la propria voce si possa arrivare esattamente lì. Possiamo definire la straordinaria semplicità. Uno non immagina e non dà atto, non vuole immaginare, ma quando uno sperimenta talvolta non vuole crederci. A ricordi logici. Ma anche dopo la sessione, dopo che sono riuscite fuori delle cose. Tra virgolette, con il semplice uso, impiego, cosa vuol dire usare o impiegare correttamente la giusta voce? Uno ne esce guarito, ha superato il suo chiudersi nelle emozioni peggiori che poi lo fanno stare male. Quindi liberare le emozioni è un miracolo. Una persona che si è rivolta a me due mesi fa, dopo la sessione mi ha detto non è possibile che io in un'ora... Ancora in credulo. Dopo aver fatto tutta una serie di cose, dopo aver traversato un processo, perché poi ogni sessione è proprio un processo che inizia... Un percorso, esatto. Sì, è sempre un viaggio, insomma. Nonostante tutto, alla fine mi ha detto non posso pensare che io solamente così, senza strumenti, senza sovrastrutture, senza farmaci, senza niente, senza un medico. Io non sono un medico, infatti. Lo ribadisco, non sono un analista, non sono una psichiatra, non è questo il discorso. È un processo, il Soul Voice, non è una medicina. Io sia stato capace di vedere e di dirti queste cose. Molto spesso la gente che arriva da me, molto spesso, ripeto molto spesso perché effettivamente mi colpisce questa cosa, è del tutto incredula sulla possibilità di riuscire a dire, ad ammettere. E molte volte non si accetta che a me, come facilitatore, non interessa sapere nello specifico quello che la persona ha fatto, ha detto. Ha molto più importanza l'emozione e la possibilità che la persona che si rivolge a me veda l'emozione e si lascia anche attraversare da questa emozione. Io una cosa che vorrei dire è che sarebbe molto bello se ognuno di noi riuscisse a farsi attraversare dalle proprie emozioni, proprio come un balsamo, come una linfa che scorre dentro una pianta, piuttosto che trattenerle. Vi ripeti questo concetto? Liberate le vostre emozioni per farvi aiutare da queste emozioni stagnanti, negative, repressive? Regalatele a Madre Terra che ve le restituirà in bene, perché è tutto un fertilizzante per la nostra Madre Terra, se voi esprimete. Dunque, il facilitatore, Soul Voice, cosa fa? Io cerco innanzitutto di mettere in contatto le persone che si rivolgono a me con il proprio respiro e attraverso questa semplicissima, io alle volte mi meraviglio di quanto poi possa risultare semplice, semplice. Ma efficace? Ma efficacissimo. Il respiro mette in contatto direttamente le persone con quello che si è dentro e poi il corpo parla. Io ho imparato ad avere fiducia di questo perché nella pratica anche le persone che non hanno avuto mai esperienza con una respirazione, con yoga, con queste terapie alternative hanno trovato subito e miracolosamente direi un riscontro nel corpo ma immediato. E poi molte volte tu lavori con l'incredulità poi di queste persone che dicono ma come è possibile, come mi è venuto in mente, come ho fatto a ricordare a questa cosa che ho vissuto anni fa e che non volevo assolutamente che venisse fuori. E questa è proprio la dimostrazione che il nostro corpo trattiene delle memorie, trattiene delle memorie che molto spesso sono dolorose e queste memorie dolorose che noi tratteniamo poi si trasformano in dolore. Io non voglio fare una televendita perché non è questo il punto. Però vorrei che le persone riuscissero a riflettere su quanto comunque quello che noi viviamo e sentiamo si ripercuote poi, ci piaccia o non ci piaccia, nella nostra vita sia fisica sia psichica sia emotiva. Il suo voice mi insegna a pensare nel respiro. Mi fa pensare non al mio respiro. Più che pensare e sentire. Mi fa pensare nel respiro. E prima di sentire, come arrivo a sentire se non mi concentro, consapevolizzo? Come mi fa sentire il mio respiro? Attraverso anche l'ascolto del corpo. Perché attraverso il lavoro con il respiro noi possiamo sentire a livello proprio pratico e fisico, perché molto spesso si ha bisogno di questo contatto, no? Quanto il respiro permei in maniera sana il proprio corpo. Quindi perché in determinate parti del corpo io riesco a respirare, in determinate altre no? Perché determinate parti del corpo sono rigide, sono fredde, sono non irrorate da energia e altre sì? Cos'è che sto trattenendo? Cos'è che sto bloccando? Cos'è di cui, che mi vergogno ad ammettere? Quando uno inizia a partire, quando si inizia a partire da queste semplici domande, che sembrano cose difficili, in realtà sono semplici domande, poi il corpo ci dice le risposte e la voce, ancora una volta, è realmente la chiave maestra di questo processo. Infatti la voce ti farà volare.